A vederli insieme è già un evento, il sindaco di Fano Massimo Seri e quello di Pesaro Matteo Ricci, rivali sulla vicenda sanità ma uniti per la presentazione del modernissimo impianto di cremazione al cimitero dell'Ulivo. Vedete che non litighiamo? La notizia è che siamo insieme, esordisce rivolto ai giornalisti seri. Ricci lo spalleggia dicendo sì però questa, intendendo la notizia, non esce perché non fa audience. In effetti a vederli concordi ed uniti su un progetto pubblico sarebbe la norma considerato il peso specifico regionale delle due città limitrofe ma se pensiamo alle scaramucce mediatiche degli ultimi tempi, leggi, sanità, ospedale unico, diventa un evento nell'evento. Ma veniamo al contesto, l'occasione che si è presentata stamattina è la conferma che se siamo uniti, ha sottolineato Ricci, siamo imbattibili, se siamo divisi e litigiosi facciamo un passo nella preistoria. Speriamo che questo clima di collaborazione sia l'auspicio per il futuro, buttandosi un po' la palla in avanti. Anche Seri, prendendo la parola per primo, dichiara sono orgoglioso di questo risultato frutto della collaborazione e stima reciproca tra le due amministrazioni. Nasce da una collaborazione tra Fano e Pesaro, la struttura è tutta di proprietà dell'amministrazione comunale ma soprattutto è una struttura veramente bella e all'avanguardia. Quindi non nascondo la soddisfazione, oggi lo presentiamo, non è ufficialmente l'inaugurazione perché l'attività partirà all'inizio del nuovo anno ma siamo già a dicembre quindi veramente si tratta di qualche settimana. Ampio il bacino di 30 comuni che tra Aset e Aspes conferiranno all'olivo, senza ombra di dubbio per concezione e tecnologia, il più avanzato impianto del centro Italia. La sobrietà degli ambienti predisposti con grande cura al rispetto e l'accoglienza dei sofferenti nel modo più discreto possibile, in un momento così delicato, senza alcuna concessione al superfluo, è sicuramente garanzia di un'affluenza continua e costante, come denunciano i dati increscendo. Consideriamo che negli ultimi 5 anni sul territorio marchigiano si è passati da un 5% di cremazioni ad un 30%, tra le due città di Pesorefano nel 2016 al 30 di novembre ci sono state oltre 450 cremazioni. Quindi diciamo che noi che ci rivolgiamo ad un bacino molto più ampio, in grosso modo 5 regioni comprese le marche, l'impianto si autofinanzierà, siamo certi di questa cosa, però darà come dicevo prima un apporto importante dal punto di vista dei tanti, delle tante famiglie. Quando ci sono le energie giuste e vengono messe a disposizione e coordinate nel modo giusto, i progetti pubblici vanno nella direzione giusta, vanno nel modo in cui dovrebbero andare e entro i termini che uno si è dato, non è stato un intervento che ha avuto delle dilazioni o dei ritardi.